Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 838 nuovi casi di Covid a fronte di 224.493 tamponi eseguiti, 40 i decessi, 20 sono per relativi a un ricalcolo della campania. Il tasso di positività è sostanzialmente stabile allo 0,4%. La percentuale di popolazione vaccinata sopra i 12 anni ed età sale al 31,9%, con il 60,6% che ha ricevuto almeno una dose. In totale sono 49.163.396 vaccini contro il Covid-19 somministrati in Italia, l'89,9% del totale di quelle consegnate. Secondo l'ultimo aggiornamento del rapporto Epidemia Covid-19 dell'ISS, la maggior parte dei casi di variante Delta registrati in Italia riguarda soggetti che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino e che sono stati vaccinati con la prima dose o con il vaccino monodose, prima dei 14 giorni utili a sviluppare gli anticorpi. Intanto le regioni lanciano l'allarme proprio sui vaccini. A luglio ci sarà una riduzione del rifornimento e arriveranno meno dosi di quelle previste. Per questo le regioni temono che le dosi non siano sufficienti a coprire la platea. Se così fosse, si rischierebbe di rallentare la campagna vaccinale e di dover rinviare le prenotazioni per chi aspetta ancora la prima iniezione. Le richieste di rivedere la distribuzione delle quantità del vaccino per i mesi estivi arrivano da più parti. Appelli in questo senso sono stati fatti da Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e anche Terapunia.